Cari fratelli, cari sorelle, il Signore sia con voi. Benvenuti alla sera di questo primo giorno della settimana, oggi domenica 4 febbraio 2024. Preghiamo perché il Signore ci porti tutti noi alla fine di questa settimana. Preghiamo questo dono della Sua parola, pregando che sia la nostra luce tutta questa settimana. Carissimi miei, prima che scada la giornata fra poco, fra poche ore, riprendiamo questo Vangelo odierno. Il Vangelo secondo Marco, il capitolo 1, i versetti 29-39. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Marco, gloria a te o Signore. Subito usciti dalla senagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacome Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito li pallarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano, e la febbre la lasciò ed ella li salviva. Venuta la sera dopo il tramonte del sole, li portavano tutti i malati e gli demoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guari molti, che erano affetti da varie malattie, e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone, quelli che erano con lui, si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero, Tutti ti cercano. E gli disse loro, Andiamoci altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro senagoghe, scacciando i demoni. Parola del Signore, l'ho data a Teo Cristo. Cari fratelli, cari sorelle, questo brano, questo Vangelo odierno, Marco 1, 29, 39, segue direttamente ciò che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, la domenica, la quarta del tempo ordinario. Abbiamo ascoltato Marco 1, 21, 28, quando San Marco ci presentava Gesù in un luogo pubblico, cioè nella senagoga. Lì Gesù insegnava e scacciò un demonio da un uomo che è stato posseduto. Uscito subito dalla senagoga, Gesù andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni, perché qualcuno aveva parlato riguardo alla situazione della suocera di Simone. La donna era a letto, non poteva arsarsi perché aveva la febbre. La febbre, fuoco nelle ossa, nelle ossa, si intendeva gli antichi, perché la parola tradutta qui, febbre, nel Nuovo Testamento ricorre due volte soli. Qui in Marco 1,30 e in Matteo 8,14. Poi c'è un'altra parola che sempre viene tradutta, fuoco, più retò, anche in Marco 1,31, qui, e anche in Luca 4,39. Questa parola, l'altro più retò, invece ricorre sei volte nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, negli Atti degli Apostoli, Atti 28, versetto 8. Paolo, San Paolo, guarì la febbre del babbo di Plubio. Cari fratelli, cari sorelle, perché la donna non poteva arsarsi, Gesù si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano e la febbre la lasciò. Ossa, fuoco nella ossa, il fuoco nelle ossa impediva la donna a vivere perché era priva della forza. Il fuoco nella ossa impediva la donna di ogni attività. Il fuoco nella ossa potrebbe rappresentare ogni cosa che ci impedisce di vivere pienamente la nostra vita e di fare ogni attività. è bello quando leggiamo il brano del Vangelo di Luca, Luca 4,39. Lì, invece, San Luca dice che Gesù comandò la febbre come si comandava agli spiriti impuri di demonio. Luca 4,39. Gesù comandò la febbre e la febbre la lasciò. Qui, invece, Gesù non comanda la febbre. Solo ci dice San Marco che si avvicinò la donna, la fece alzar prendendola per mano e la febbre la lasciò. Si avvicinò Gesù perché la donna prostrata sul letto non poteva arsarsi. Quando la febbre la lasciò e la gli serviva. Sottolineiamo questa parola servire diaconeo nel Nuovo Testamento. Questa parola il significato fondamentale servire era di servire a tavola. Servire a tavola. poi dopo da qui è derivato un significato più ampio cioè provvedere al sostenamento. Hai bisogni provvedere al sostenamento. Prima nel greco profano la parola diaconeo tradotto servire significava aveva questo significato servire a tavola come fa la donna qui quando è stato guarito. Ma nel Nuovo Testamento questa parola porta un altro significato il significato teologico mettersi a servizio delle altre i bisognosi come come fece Gesù stesso e ancora fa per noi. Gesù dice nel Vangelo di Marco il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma è venuto per servire e dare la sua vita per riscatto per molti. Gesù è venuto per servire. allora carissimi miei con la venuta di Gesù la presenza di Gesù il servire diaconeo porta un altro significato più ampio di servire solo a tavola mettersi disponibile agli altri i più bisognosi tutti infatti tutti come fa Gesù per noi cari fratelli cari sorelle ora notiamo nel brano di oggi i servizi che fanno i protagonisti anzitutto soffermiamoci su Gesù qual è il servizio di Gesù nel brano di oggi uscito dalla sinagoga Gesù si dirigeva verso la casa di Simone e Andrea e lì avvicinò la donna si avvicinò fece alzare per mano e la febbre la lasciò il servizio di Gesù è questo avvicinando la donna e guarrendo la donna e non solo questa dopo quando si ritirò in luogo a pregare verso la fine Marco 1 39 che cosa fece Gesù Gesù andò andò per tutta la garelia predicando nell'olosenagoga e scacciando i demoni questo è il servizio di Gesù nel brano del Vangelo il figlio dell'uomo è venuto per non essere servito ma per servire e dare la sua vita per molti così Gesù nel brano di oggi guarì molti guarì la suocera di Pietro guarì altri ammalati e uscì a predicare nelle loro senagoga oltre Gesù ci sono altri protagonisti sentiamo o notiamo nel brano dice San Marco Marco 1 30 la suocera di Simone era a letto e la febbre con la febbre e subito li parlarono di lei qualcuno aveva parlato riguardo alla situazione della donna era un salvizio per noi se abbiamo un amico o un'amica alcuni parenti che non stanno bene e parliamo al Signore riguardo a questa persona è un servizio è un servizio portare gli altri nella preghiera è un servizio pregare per gli altri è un servizio portando gli altri davanti al Santissimo è un servizio subito li parlarono di lei abbiamo bisogno delle persone che ci porteranno al Signore ci porteranno al Signore poi il versetto 1 32 venuta la sera dopo il tramonto del sole li portavano tutti gli ammalati e lì come fanno anche alcuni volontari questi giorni soccorritori portavano gli ammalati sul lettuccio quelli che non potevano camminare avevano bisogno dell'aiuto lì portavano tutti è un servizio lì anche noi carissimi miei come alcuni di già state già facendo continuiamo a fare questo rendersi disponibili ai bisognosi ai bisognosi ricordiamo però con la venuta di Gesù servire non significa solo servire la tavola ma porta ora un servicato più ampio dedicandosi per salvare la vita di quelli che sono sfortunati cari fratelli cari soroli con questa idea ora possiamo entrare nella prima lettura di oggi quando Giove diceva l'uomo non compie forse un duro servizio cioè una guerra sulla terra i giorni dell'uomo è come un mercenario chi è un mercenario un mercenario è uno che agisce esclusivamente per motivi economici un mercenario un soldato questi giorni alcuni russi che vengono in Africa ma in Nigeria a combattere e proteggere la terra per motivi interessi economici per guadagnare il salario un salario ma con Gesù il servizio porta un altro significato più ampio rendendosi disponibile non per motivi economici ma per salvare la vita degli altri come fece Gesù oggi perché come ho già spiegato la febbre la febbre che oggi potrebbe rappresentare ogni cosa che ci impedisce a vivere ogni cosa che ci impedisce a fare le attività così servire le gente possiamo togliere questi ostacoli così questa gente una volta guarita possano anche essi vivere pienamente la loro vita e fare l'attività a servire gli altri abbiamo bisogno alcuni parenti che hanno bisogno di servizi come fece Gesù andando verso la casa di Pietro stando accanto vicino questa donna la tocco e la guarì così possiamo fare tutti questi servizi andiamo carissimi nelle case delle nostre amici a trovarli portiamoli al Signore nel Santissimo preghiamo per questi amici nostri portiamo quelli che sono ammalati nell'ospedale come fecero gli altri protagonisti nel brano del Vangelo di oggi e ricordiamo che facciamo tutti non per motivi economici ma per salvare la vita di queste persone perché anche essi possano avvicinare il Signore vivendo pianamente la loro vita facendo ogni attività che devono fare come essere umani carissimi miei concludendo la giornata con queste intenzioni innanzitutto vogliamo rendere grazie al Signore per il dono di questo oggi il primo della settimana e questa bellissima parola salvire è un onore salvire è un privilegio salvire è sacro perché collaboriamo noi con Gesù rendiamoli grazie per il dono della salute che ci renda noi disponibili agli altri per questo preghiamo ascoltaci o Signore cari fratelli cari sorelle preghiamo per quanti lavorano silenziosamente tutti quelli che promuovano il lavoro silenzioso per sostenere la nostra vita non si vedono queste persone fanno un lavoro silenzioso per sostenere la vita nostra per promuovere la nostra società per tutte queste persone che fanno questo lavoro silenzioso preghiamo ascoltaci o Signore carissimi mie preghiamo il Signore perché tolga e guarisca i nostri parenti che devono lavorare ma per questi giorni sono impediti ostacolati a causa delle malattie per questo preghiamo ascoltaci o Signore preghiamo perché il Signore ci liberi da ogni male e ogni pericolo perché possiamo rendere essere disponibili per sostenere la vita dei più bisognosi per questo preghiamo ascoltaci o Signore durante questa settimana il Signore ci protegga ci dà la salute e la grazia di stare vicino quanti che hanno bisogno del nostro aiuto della nostra presenza ascoltaci o Signore chiediamo il suo bacio santo Signore dacci tutti noi il tuo bacio santo tu che vivi il regno dei secoli dei secoli come San Paolo predicare è un servizio diventiamo servi per tutti per guadagnare almeno uno per Cristo questa settimana Amen